Ok siamo il secondo... Ciao! Siamo al secondo raduno di Pokémon GO, ovviamente! Non sa neanche che cosa sia lei. Lei non sa, non l'ha mai visto, non ci ha mai giocato e non sa assolutamente cosa sia. Stiamo andando a mangiare la pizza e cosa prendiamo? Io ho una margherita. Ah non so, mi farò mangiare una margherita, secondo me. Abbiamo gli sconti, gli sconti perché giochiamo a Pokémon GO in base ai livelli. Infatti. Siamo qui e siamo in attesa di ritrovare tutti, di ritrovare tutti che sono spariti, non so dove siamo andati e le esche stanno finendo. Quindi siamo preoccupati. Penso che andremo a fare un giro da qualche parte. Ci sarà la distruzione del mondo, ma... Moriremo tutti. Un ganchietto, dov'è il ganchietto? Guarda appena il ganchietto. E per testimoniare il fatto che ha mangiato la pizza... Guarda, ho organizzato l'evento e non male che poi mi mangio la pizza. Eh, per forza! Che cavolo eh! Del reale, ricordiamoci bene del reale. Che ci pagano anche la pubblicità. Esatto! Eccoli! Allora dai a Luca. Adesso siamo con Gianni! No, ho sbagliato! Volevo far vedere questo! Wow! E' il champion numero uno! Ciao! Stato commentando! No, no, ti prego! Una forza piena! Devo riuscire a... Troppo famoso, dovete pagare i miei diritti! Abiettivo palestra! I gialli di asti! Praticamente! Abiettivo palestra! Però è già stata conquistata! Volevamo fare una battaglia in... Diecimila ma... I gialli fanno schifo! I gialli dominano! Dicono che i gialli siano scemi! Dicono che i gialli siano scemi però... Non lo so! Io invece si devo dire che tutti i gialli non si può dire perché è troppo volgare! Ciao! Ciao! Che ha fatto il suo rap per me si stava via via via! C'è un Pikachu! Che cosa c'è? Che cosa c'è? Eh, lo dicono tutte! Che cosa c'è? Oh! Pikachu! L'hai preso? Hai preso! Hai preso! L'ha preso! L'ha preso? Mi ha visto il party! No! Che cosa c'è? No! No! Che figo! 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 No! Jabba the Hat! Dammi pastica! Massa! Allora! Abbiamo appena conquistato una palestra e arrivando al settimo livello... Io non ho conquistato una palestra! Perché... Cioè io non ho conquistato... No! Io la stavo per battere! Lei la stava per battere in un colpo solo, cioè... Sette... Sette... Sette livelli combattuti e vinti quasi! Con un colpo... Tu te sei morti! Io invece non sono riuscito a diventare capo palestra! Che tristezza! Ma è schifo! Trist! Anch'io! Non sono diventata capo palestra! No! Io ho preso Pikachu! E' partito a scrivere l'uovo da 10 chilometri e mancano 200 metri! Ok si è fermato! Jackie! E lui si siede! E allora si baciano! E ora non so chi siamo! E lei invece gioca! No! Sto cercando di fare l'uovo! No! Chi? Non ce l'avevo ancora! E lei torna! Cos'è? Chi? Kyoshi! Kyoshi? Dov'è? Non è! Non l'hai preso! No! Ho preso un Poli Whirl! Oh! Anch'io sto catturando un Poli Wu! Un Wu Wu! Potentissimo! Non è vero! Se l'hai sopra tenete! Figo! Non l'ho preso! No! L'ho preso! E' uscito! Anch'io l'ho preso! Jiggy Puff! No! Si è liberato! Si è liberato! Si è liberato! Ma dai ma che due... Sarà la 12 sono? Che bug! E ora viene! A me è venuto un Pinsir! A me è venuto un Pinsir! Pinsir! Cazzè! Ah no! Mi ha pagato! Bello! No! Cos'è? Ha accabuto! Ah si! Era un po' come un po' superiorente! Cazzè! Cazzè! Il cabuto fantasma! No! Non ce l'avevo! Non ce l'avevo! Buono! Buono! Wobo! 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 Ma c'è un uovo! Madonna! E' il secondo che trovi un uovo! Madonna! Super Widow! Madonna! 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 La mia vita fa davvero schifo! No! Un saluto! Non va! Non va! Ho trovato Widow! Ah! Widow, Widow, Widow! Fa schifo! Guarda che bi Pokémon! Guarda che bi Pokémon! Sono belli! Sono tanti! Sono talmente tanti che i colori si sovrappongono e non si vede più niente! Seata conclusa! Un saluto! Alla prossima! Siamo Jackie! Cio! Ciao! E gli altri dai sono a fondo! Ci vediamo! Ciao! E si va! A casa! Si va a casa! Noi andiamo a casa! Ci vediamo a casa! Ci vediamo a foto settimana! Che abbiamo fatto dopo tutto il giro! Mamma mia! Sono rotte le palle! Oh! Ti guarda! Dai è piaciuto! Io sono dimagrito! Ciao! 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 Ciao!